Buongiorno, sono Gualtiero Anselmetti della SatNet SRL, sono il responsabile vendita e marketing dell'azienda. SatNet è un distributore a valore aggiunto nei settori audio-video controllo. Siamo un distributore giovane che ha però un'esperienza particolare nel settore del system integration, perché fino al 2007 siamo stati system integrator e conosciamo bene i problemi di quelli che invece oggi sono i nostri clienti. SatNet è il distributore di numerosi marchi prestigiosi, tra cui Televic, che oggi ci sta ospitando in questa cornice all'Ise di Amsterdam, tra gli altri marchi importanti Clear One, che si occupa di audioconferenza, e da un anno ha acquisito il prestigioso marchio di videoconferenza Vicon, che continuiamo a distribuire oggi. Una serie di altri accessori, dai mobili arredi per la sala videoconferenza di VideoFurniture International, un'azienda canadese con cui collaboriamo da anni, TLS, un leader tedesco che si occupa di produrre cavi di alta qualità, scatole da incasso per la connettività, è una chicca particolare proprio, Epifan. Epifan è un'azienda con cui collaboriamo da un anno, produce dei sistemi di acquisizione, registrazione e streaming. È l'oggetto ideale da inserire in ogni sala conferenza, in ogni sala del Consiglio Comunale. È una vera e grande scoperta, anche per applicazioni medicali.